Bellissimo, bellissimo perché, a parte che la Roma è una grande squadra, però che sono potuto entrare e aiutare la squadra, è stata una grande emozione. Che gran gol ho fatto, perché è stato un gesto bellissimo e voglio ripeterlo, se possibile. Il numero 47 ha un significato molto in realtà grande per me, perché non so se in Italia esiste, ogni quartiere ha un codice postale, è quello di casa mia e quindi ha un significato molto grande quel numero lì. È bellissimo perché ho fatto, sia io che un paio, che ci sono ancora della B, della C, magari non credo, però c'è una crescita bellissima e vogliamo fare bene, dare continuità a questa storia. Bianco, si chiama Bianco, quindi poi c'ha il fratello un po' più grandino che è sempre qua con me, che si chiama Oscar. Allora, ne abbiamo un paio, direi Armando, perché mi piace proprio vestirsi ogni giorno, è sempre elegante. Anche lì ne abbiamo un paio, quindi ci sono tanti, c'è Maldini, Petaglia, Boldo, Turati, Armando proprio, e ne abbiamo un paio, quindi ti direi quasi tutti perché siamo come una famiglia. Il piatto preferito è un portoghese, si chiama Francesinia, quindi andate a cercarlo. No, bellissimo perché era stato il mio, il mio primo gol in Serie A e anche quello del Monza, quindi è stato proprio un insieme perfetto. Non è andato benissimo perché alla fine abbiamo perso quella partita lì, però di poter fare il primo gol del Monza in Serie A è stato veramente qualcosa di grande per me. Direi la mia. Dani, Dani, Mota, Mota. A me piace la musica. Bubba, Bubba Saga si chiama, una francese. Guarda, se fossi per me io proverò a farne anche di più di dieci, quindi quest'anno credo che è l'anno giusto. Ciao, saluto ai tifosi bianco-rossi, ci vediamo allo stadio contro il Venezia.